Ciao mami! Eh, come vuoi che vada. Mi mandate una scuola piena di stranieri. No, non penso che mi troverò mai bene qui. No, non penso che mi ha messo. Perché mi rispondi? Giusto un po' di buone. Basta. Vai, Fran! Fai la cena. Spera, Fran. Fai la cena. Fai la cena. Fai la cena.